Proseguono i controlli dei NAS nelle menze delle scuole abruzzesi. A seguito di un sopralluogo dei Carabinieri e della ASL è stata infatti disposta la sospensione dell'attività delle cucine di due menze scolastiche a Vasto. Si tratta delle cucine del comprensivo Spataro e della scuola Peluzzo, dove si preparano centinaia di pasti per i bambini della scuola dell'infanzia e della primaria e la cui gestione è affidata alla stessa ditta. L'ispezione degli uomini del NAS, coordinati dal capitano Domenico Candelli, è scaturita dalle segnalazioni dei genitori che frequentano le scuole e ha consentito di rilevare carenze igienico-sanitarie strutturali e materie prime accatastate in locali non idonei ad accogliere magazzini. In particolare nei laboratori di cucina sono state trovate muffe alle pareti. È stata quindi disposta la sospensione immediata fino alla eliminazione delle non conformità riscontrate e al ripristino delle condizioni ottimali. Alla luce del sopralluogo scatteranno delle sanzioni e nelle prossime ore proseguiranno gli accertamenti per la verifica dei menu ed il rispetto del capitolato. Controlli dello stesso tipo effettuati su input del Comando Tutela Salute del Ministero avevano portato nei giorni scorsi anche alla chiusura del deposito utilizzato da una mensa di Francavilla al mare.